Se ci sono altre aree per sistemare nuovi lidi non ha senso cacciare i balniatori. Lo dice a chiare lettere il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri che è arrivato a Termoli a sostegno del candidato presidente Francesco Roberti e ha incontrato i balniatori molisani. Ha voluto rassicurare la categoria su cui pesa un macigno il rischio di tutte le concessioni all'asta tra pochi mesi. È questo quello che vuole l'Unione Europea per garantire parità e concorrenza. La linea del governo italiano è invece quella di realizzare una mappatura che mostrerà l'esistenza, evidenziato Gasparri, di nuove aree disponibili da mettere a disposizione di nuovi imprenditori. Non ci sarebbe quindi la necessità di mandare in fumo decenni di sacrifici. Ma per il Consiglio di Stato non c'è spazio per le proroghe. L'Unione Europea deve capire che non parliamo di una risorsa scarsa, ha ribadito Gasparri. Noi vogliamo garantire continuità a queste imprese e diciamo se la mappatura dimostra che ci sono spazi e dire all'Europa c'è concorrenza possibile. È chiaro che chi è arrivato prima e ha fatto investimenti starà in una certa collocazione e altri, considerati gli 8.000 km di costa italiana, avranno la possibilità di intraprendere la loro attività altrove. Poi se saranno più bravi attireranno i clienti, come tutte le cose della vita. Noi a questo tavolo, diciamo attraverso i tecnici, un tavolo tecnico che non è politico, abbiamo rappresentato questa opportunità. Il Ministero delle Infrastrutture deve provvedere, diciamo adesso nel corso dell'estate, a questo monitoraggio che oggi con delle tecnologie si può fare, io credo anche rapidamente, non si tratta di andare con la penna, la carta comune per comune a vedere che succede. E poi ingaggiare un confronto con l'Europa e vedere insomma se si convincono che la risorsa c'è per nuovi operatori. Questo è il concetto della concorrenza. Questa categoria, ha detto Roberti, per noi è una parte importante della nostra regione. Questo è un problema nazionale che mette in crisi un settore con 150.000 famiglie che lavorano e che hanno finora garantito turismo, ma soprattutto anche il controllo delle coste e perché no, anche la sicurezza nella bannabilità di alcuni tratti. In effetti l'idea che si vuole mettere in campo è quello di creare una mappatura di tutte le coste italiane e vedere quanti spazi liberi ci sono a disposizione per creare casomai nuovi insediamenti e non per andare a fare una concorrenza sleale o andare a prendere il lavoro a chi all'interno di questa attività da anni ha dato sempre il suo contributo. All'incontro anche il senatore Costanzo della Porta abbiamo mantenuto la promessa perché ha detto abbiamo portato avanti la mappatura e intendiamo ragionare sul doppio binario delle concessioni balneari prima e post 2009.